Sono Davide, ho 19 anni, studio Scienze della Comunicazione all'Università Statale di Milano e scrivo dai primi anni del liceo. Ho sempre scritto per me stesso, pensando alla scrittura come a una medicina e a un modo per vivere più vite attraverso quelle dei personaggi che creavo. E che tuttora creo. Ciao!